...nel campo di ingegneria gestionale. Ci si mette un centro di ricerca pubblico-privato partecipato tra i vari soci pubblici anche dall'Università di Brescia con la quale abbiamo diverse collaborazioni in progetti di innovazione, ricerca e sviluppo per le aziende del territorio e per le aziende del territorio ci occupiamo anche di trovare in accompagnamento ai progetti che sviluppiamo dei finanziamenti principalmente dal lato pubblico partendo dal bando europeo passando per il bando ministeriale o anche bandi camerali o regionali per cui direi basta così mi fa molto piacere che ci siano tante persone collegate ringrazio Vestalpin e Boller del gruppo Udelhon che hanno sostenuto la nostra scuola di pressocolata che è un'iniziativa di formazione oggi giunta alla settima edizione nata dalla collaborazione tra CSMT e AQM e che il nostro sponsor ha deciso di sostenere con una quota di sponsorizzazione oggi abbiamo appunto questo seminario che ha per tema gli acciai che hanno come applicazione la tranciatura a freddo e formatura a freddo Nadia non so se sono troppe persone non riesco a vedere se Nadia Zilli è collegata così poteva fare un saluto anche lei intanto che magari prende la parola vi avviso il seminario sarà registrato per cui magari potete spegnere le telecamere attenzione ai microfoni e lo stesso filmato verrà messo a disposizione dal nostro marketing per chi desidera riascoltarlo o per chi non ha potuto partecipare e quindi se lo ascolterà in differita Nadia non la vedo, non la sento per cui magari si arriva dopo oppure in coda io darei la parola a Luca Bombini che è Came Technical Manager di Boller Italia quindi prego Luca Buongiorno a tutti e grazie mille di aver si sente? Sì Perfetto Grazie mille a tutti di aver dedicato una parte del vostro tempo di oggi a essere qui a questo trading spero che vi possa interessare Allora adesso proviamo a condividere È a posto? Funziona tutto? Sì funziona Sì Ok Allora Ho dimenticato di dire che c'è un dom... Chiedo scusa, avevo il microfono spento Ci sarà un momento alla fine per fare le domande per cui mai potete aspettare qua oppure anticiparle in chat Grazie Vai Luca, prego chiedo scusa dell'interruzione No, di cosa? Nessun problema Allora, per quanto riguarda parlare degli acciai per applicazione a freddo vuol dire fondamentalmente parlare di materiali che magari voi già conoscete di cui magari avete già impiegato in altre occasioni La formazione ha un carattere di tracciare quelle che sono le caratteristiche generali di questi materiali delle problematiche peculiari quindi a livello di danneggiamento di caratteristiche Quelli che possono essere delle soluzioni a livello di materiale o tecnologico per andare a migliorare le performance delle attuali produzioni piuttosto che delle situazioni specifiche e facciamo una breve sequenza di casi in cui fondamentalmente presenteremo magari dei casi reali che possono avere magari qualche attinenza con delle vostre applicazioni magari possono darvi lo spunto per una valutazione e darvi l'evidenza di come magari un cambio o una modifica anche soltanto in alcuni casi di caratteristiche abbiano avuto un impatto poi finale sulla produzione anche molte volte molto molto significativo Parlare di acciai a freddo tipicamente a carattere generale vuol dire di parlare di materiali che lavorano in condizioni diciamo in cui non ci sono, non c'è un riscaldamento specifico dovuto a una parte esterna quindi non so magari non so lavorazioni a caldo quindi uno stampaggio in alta temperatura del pezzo piuttosto che dello stampo oppure in altri casi come per esempio per gli acciai rapidi in cui la lavorazione meccanica genera di per se stessa una temperatura questa gamma di materiali sono acciai che hanno delle ottime caratteristiche forniscono diciamo il loro meglio in condizioni in cui la temperatura non supera diciamo questa soglia dei 200 gradi quindi parliamo di settori come per esempio quelli della tranciatura tranciatura fine quindi stampi piuttosto che delle modifiche, delle formature piuttosto che la parte di compattazione delle polveri quindi punzoni o anche adesso lì c'è un esempio di una moneta ma anche per esempio coniature superficiali quindi punzoni che vanno a riportare una marcatura superficiale o deformare localmente con grande precisione quindi parliamo di piccoli spigoli piccoli in diciamo geometria oppure di lame per il taglio diciamo magari dell'acciaio direttamente perché è più magari una tranciatura ma non so del lame per tagliare la carta piuttosto che la plastica componentistica o per la trasformazione a freddo diciamo che questi materiali poi vengono genericamente impiegati in diverse applicazioni nel settore dell'ingegneria e quindi nel senso che vanno dall'automotive fino a delle altre diciamo applicazioni più specifiche diciamo che il trend che come acciaerie vediamo è sempre un incremento di quelle che sono la complessità degli stampi quindi avere stampi con magari dei movimenti interni molto più complessi magari rispetto al passato per poter fare delle lavorazioni tutte in molto compattate a livello di magari lo nello stampo quindi delle piccole deformazioni cambi una tranciatura quindi aumentare la complessità di quello che è lo stampo lo e quindi ovviamente questo si trasforma anche una complessità del processo di lavorazione il cliente da che mondo in mondo chiede sempre che andiamo sempre più veloci e quindi più velocità maggiori usure problematiche ovviamente connesse con un rate di più elevato a livello di funzionatura di tranciatura i materiali dall'altra parte puntano sempre a un miglioramento ma sia delle caratteristiche che vengono fornite ma da un visto al contrario vuol dire praticamente che chi va a lavorarli trova delle delle caratteristiche più difficili da trasformare lavorare quindi con problematiche di usure magari connesse con materiali che in passato non c'erano ovviamente nel senso per esempio nel caso delle deformazioni le superfici che vengono richieste nelle fasi di deformazione nello stesso passaggio il punzone deforma e anche lucida quindi in qualche modo anche questo aspetto diciamo viene 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 ricercato e ovviamente le tolleranze dimensionali per ottenere il componente più preciso possibile in modo tale da richiedere il meno meno possibile ulteriori lavorazioni diciamo che il tutto queste richieste che vengono dal mercato ovviamente comportano magari delle problematiche diciamo sui punzoni di vita utile quindi danneggiamenti e quindi il danneggiamento quindi il non so la scheggiatura piuttosto che l'usura sono degli aspetti fondamentali per comprendere quali sono le problematiche del processo produttivo nel caso specifico è per questo che il servizio di assistenza tecnica di boiler in italia fornisce supporto per questo ma soprattutto la la sede di caffenberg dell'acciaieria è strutturata per raccogliere dei casi in cui il cliente vuole fare un improvement magari delle sue caratteristiche ricerca magari qualcuna di queste caratteristiche di questa di che vi ho appena accennato per andare a migliorare e l'analisi parte quasi sempre dalla parte di un funzione danneggiato quindi la superficie di frattura ed è per questo che diciamo vi accenno brevemente alle motivi per cui un componente praticamente finisce la sua vita utile quindi i meccanismi di danneggiamento sono un'informazione fondamentale per capire qual è il problema mediamente questa è una breve diciamo escursus ci sono tre principali problematiche un'usura di tipo abrasivo un'usura di tipo adesivo una problematica di fatica tipicamente connessa a una problematica di scheggiatura e poi ci sono delle lavorazioni meccaniche che possono portare a delle problematiche ulteriori date dalla trasformazione l'usura abrasiva è quella forse più semplice da poter diciamo comprendere e a magari anche percepire è tipicamente una rimorzione per abrasione del punzone piuttosto che della matrice tipicamente connessa con un'usura continua man mano nei vari nel ciclo di produzione si va a rimuovere layer per layer componente cioè a livello atomico quasi il materiale e c'è quindi una perdita da di tolleranze dimensionali nel diciamo nel componente che ha meno caratteristiche per di performance o che magari a livello geometrico subisce maggiormente questo effetto per diciamo ovviare alla problematica di questo tipo la direzione in cui bisognerebbe spingersi sono quello di un aumento delle della durezza del componente e un aumento della volume dei carburi i carburi sono dei particolati dispersi all'interno degli acciai da utensili che ne rinforzano la matrice e forniscono le caratteristiche di più elevate resistenze a usura quindi una maggiore concentrazione dei carburi porta a una maggiore resistenza a usura nel caso specifico per la parte di usura abrasiva in un caso un esempio per darvi una visione questo qui per esempio è un punzone per compattazione il problema in questo caso è usura abrasiva potete vedere come l'usura praticamente ha evidenziato i carburi che sono nella matrice metallica quindi la rimorzione del materiale ha portato a sviluppare sulla superficie quelli che sono i carburi dispersi in alcuni casi per esempio una strategia che viene impiegata è il fattore di realizzare il componente più nobile o quello più difficile da lavorare in una durezza superiore in un materiale più performante e utilizzare invece un materiale più come possiamo dire sacrificabile per la parte invece in cui è più facile la lavorazione e la realizzazione magari con le macchine utensili questa diciamo combinazione o in un materiale anche diciamo meno performante questo permette praticamente di avere una parte che ha una vita utile molto più lunga e l'altra invece che diventa un componente sostituzionale la parte invece di resistenza di usura adesiva ha un tipo di funzionamento levemente diverso è come fosse una microsaldatura cioè nella fase di tranciatura piuttosto che di taglio si formano delle microadesioni delle microsaldature tra il punzone praticamente e il materiale piuttosto che la matrice questo praticamente porta a nella fase di diciamo di rimessa in posizione zero di ritorno in posizione iniziale uno strap praticamente il materiale si lacera si trasferisce da una parte all'altra e quindi si formano degli strappi che per esempio potete vedere nell'immagine nella slide in questo caso per esempio la soluzione più efficiente in molti casi è l'introduzione della rivestimento di un coating quindi una realizzazione di una membrana perché parliamo alla fine di pochi micron non parliamo di millimetri di sovrametallo che realizzano praticamente un elemento di discontinuità questo genera un punto in cui il punzone non subisce questi micro incollaggi queste microsaldature e quindi praticamente fornisce delle aumenta la vita utile e allunga la vita dell'utensile ovviamente la parte diciamo di un coating deve essere sostenuto quindi bisogna che il materiale con cui è realizzato l'utensile abbia la corretta durezza in modo tale da non avere delle problematiche per esempio di sfondamento piuttosto che dia il giusto supporto diciamo al coating inoltre a prescindere dal diciamo dall'eventuale presenza o meno comunque la durezza sempre il volume dei carburi e in questo caso la diciamo la distribuzione uniforme danno dei vantaggi in termini diciamo di limitare il più possibile il fenomeno di usura adesiva alcuni grade come il K340 e il K360 sono additivati anche con alluminio che è un praticamente forma dei carburi che sono quasi lubrificanti creano un distacco e impediscono praticamente o limitano il più possibile il fenomeno del micro incollaggio un altro diciamo meccanismo di danneggiamento molto più complesso perché comprende molti più elementi la macchina, il materiale praticamente a tranciare il punzone piuttosto che la matrice è quello praticamente connesso con un fenomeno di fatica a livello di funzionamento fondamentalmente il materiale il punzone raggiunge un punto in cui c'è una deformazione plastica superiamo il punto elastico del materiale e la ciclicità della deformazione quindi il continuare, l'applicare il carico che porta oltre il limite elastico forma una zona deformata che è quella che potete vedere al centro della slide questo tipo di effetto non ha un accendimento immediato come per esempio potrebbe essere un accendimento per fragilità forma praticamente una sovrapposizione di deformazioni questo effetto genera nel tempo quello che è un indebolimento della matrice e la formazione praticamente nucleazione delle criche secondo me è molto intuitivo poter comprendere meglio questo tipo di fenomeno con l'immagine che vedete qui al centro che è praticamente dove potete osservare la deformazione praticamente di un lato dello spigolo presente di taglio la generazione praticamente della crica sulla parte praticamente che va a ripiegarsi e poi praticamente la formazione della crica che porta alla scheggiatura dell'utensile questo tipo di genesi è fondamentalmente per un'insufficiente resistenza a compressione il materiale si deforma quello che in questo caso si può fare è portare a utilizzare dei materiali dove il carico di compressione è più elevato e quindi evitare fondamentalmente la formazione della deformazione localizzata un caso per esempio che mi piace mostrare è questo di questo punzone che ha avuto un fenomeno di cedimento in cui ci sono delle foto praticamente di tutti gli step di formazione della crica sviluppo della crica e scheggiatura praticamente del lato di taglio qui addirittura potete vedere che il fenomeno oltre a essere di usura diciamo di una scheggiatura c'è anche una problematica di trasferimento di materiale quindi non è che tutti i fenomeni sono singoli c'è un'intercorrelazione quindi abbiamo fenomeni di usura abrasiva ovviamente che c'è sempre potenzialmente quella adesiva si va a sovrappurre se ci sono le condizioni e questo è un altro che si va a creare l'ulteriore problematica per un fenomeno di chipping questo per esempio è un esempio di un stampaggio a freddo di un componente in questo caso praticamente la problematica sembrassessi formata da delle problematiche di difetti interni questo mi porta a dirvi le processi produttivi degli acciai quindi non so parlo di processo convenzionale piuttosto che dei materiali SR se ne avete sentito parlare quindi rifusi sotto scoria piuttosto che i materiali quelli che vengono di metallurgia delle polveri diciamo che vengono chiamati pati quindi con una compressione isostatica ad alta temperatura ho sentito molto spesso parlare di materiali sinterizzati concettualmente è così ma c'è una parte praticamente di temperatura che si aggiunge alla parte di sinterizzazione il che creano un materiale 100% denso quindi senza le porosità tipicamente magari presente nella sinterizzazione ma creano dei materiali in cui le inclusioni sia nel senso del processo SR sia nel processo PM le inclusioni vengono minimizzate le inclusioni sono tipicamente dei particolati presenti all'interno dell'acciaio che sono non parte del materiale e quindi creano una discontinuità la discontinuità crea tipicamente una sovrasollecitazione e la sovrasollecitazione tipicamente i materiali con queste durezze genera le cricche quindi la ricerca di materiali con minore inclusioni con una struttura più fine uniforme che portano praticamente anche delle caratteristiche superiori sono le caratteristiche che state cercando da un punto di vista se volete tentare di minimizzare il più possibile delle problematiche di cricca fatica o di comunque di scheggiatura riassumendo un secondo a seconda della tipologia quindi di danneggiamento che si va a riscontrare sull'utensile alcune caratteristiche vengono richieste magari di più che altre ovviamente come vi accennavo i problemi non sono tipicamente sempre unici cioè qui non c'è solo una problematica magari sono una combinazione di effetti però tipicamente dove cerchiamo delle problematiche di vediamo dei problematiche di cricche quindi di scheggiature oppure di problematiche di fragilità la ricerca è da un punto di vista di materiali tenaci quindi con la minore possibilità di avere inclusioni possibilmente più omogenei a livello diciamo di struttura e con i carburi più dispersi alte durezze e buone condizioni a livello di superficie perché per esempio la rugosità superficiale è un aspetto fondamentale da un punto di vista pensate come la rugosità come delle discontinuità superficiali sono dei naturali punti in cui la formazione di una cricca può partire quindi una migliore rugosità superficiale gli dà un vantaggio da un punto di vista della fatica quindi da questo punto di vista di minore la rugosità superficiale maggiore la resistenza fatica dei materiali da un punto di vista invece del fenomeno di danneggiamento come abrasione piuttosto che adesione a livello di ulura la ricerca fondamentalmente delle alte durezze tanti carburi possibilmente la distribuzione uniforme e per la parte di usura adesiva la possibilità di introdurre un PVD quindi un coating superficiale per ovviare a questa tipologia di problemi la Böhler offre una direi elevata estesa gamma di materiali che vanno da degli acciaia più alte performance nel termine di resistenza usura come quelli che vedete nella fascia più alta della tabella piuttosto che invece materiali che vanno dando caratteristiche più di tenacità e quindi di resistenza ai fenomeni di fatica è interessante vedere secondo me come la resistenza usura sia aumenti all'aumentare della percentuale di carburi presente in matrice si va da materiali come non so il W360 dove la percentuale è al di sotto dell'1% fino a materiali dove abbiamo il 23% di carburi questo è una scala praticamente ma aumentando i carburi aumentiamo la resistenza ma contrariamente aumentando i carburi andiamo praticamente a ridurre un po' la tenacità i processi produttivi ci danno un grosso aiuto da questo punto di vista perché praticamente il cambio praticamente del processo produttivo a fronte di magari stesse condizioni di durezza mi fornisce comunque delle caratteristiche di tenacità migliorate poi lo vedremo in un'altra slide questo è un modo interessante di poter visualizzare le caratteristiche spaziali dei materiali parliamo di una tenacità e resistenza usura è interessante vedere come i materiali convenzionali quelli prodotti diciamo soltanto con il forno ad arco senza nessun tipo di rifusione secondaria sono materiali che danno delle prestazioni medio alte da un punto di vista di resistenza usura o tenacità se vogliamo migliorare qualcosa già soltanto la trasformazione SR quindi rifusione sottoscoria fornisce materiali con caratteristiche migliori a livello di resistenza usura oppure eccezionali caratteristiche di resistenza tenacità il passare a materiali invece in cui la metallurgia delle polveri è lo step successivo a livello tecnologico abbiamo la fascia più alta dei materiali in cui otteniamo le massime caratteristiche a livello di resistenza usura ovviamente nel senso a scapito un po' della tenacità questo per introdurre una questione riguardante i processi produttivi come vi accennavo precedentemente affinano quelle che sono le caratteristiche metallurgiche dei materiali quindi passiamo da materiali per esempio prodotti convenzionalmente dove la metallurgia ovviamente è quella più semplice ma più come possiamo dire anche breve dove la produzione magari è più facile realizzarli e ci sono anche meno costi dove però la distribuzione e la microstruttura sono un pochino più grossolane dove i carburi per esempio che sono la parte bianca nella metallografia che vi sto mostrando sono più grandi e magari dispersi meno finemente all'interno già una trasformazione sr li distribuisce maggiormente all'interno del materiale e ne riduce le dimensioni il salto di qualità ovviamente si fa con quelle che sono materiali prodotti dalla metallurgia delle polveri dove la struttura e i carburi sono talmente dispersi e finemente compatti in cui la struttura diventa praticamente isotropa non le caratteristiche del materiale sono uguali in tutte le direzioni quindi questo è un vantaggio enorme dove vogliamo andare praticamente a realizzare un componente che abbia per esempio caratteristiche di tenacità dove vogliamo poter spingere al massimo la parte per esempio di carico di compressione ma dall'altra parte avere anche resistenza per la scheggiatura un materiale di questo genere fornisce caratteristiche migliorate proprio per in funzione della propria microstruttura da un punto di vista di caratteristiche proprio numeriche materiali per esempio con più basse contenuti di carburi come vi accennavo precedentemente forniscono in maniera abbastanza lineare un andamento della resistenza usura abrasiva quindi cercando i materiali se la problematica che uno ha è una problematica di semplice usura la ricerca di materiali più alti percentuali di carburi forniscono prestazioni migliorate quindi la ricerca in quest'ottica è cercare qualcosa che nella chimica generi all'interno della matrice una maggiore concentrazione ovviamente poi la distribuzione vi fornisce le altre caratteristiche a livello a livello di tenacità di resistenza per esempio magari alla scheggiatura quindi è un insieme di caratteristiche stesso discorso per esempio in questo caso parlando puramente sempre di una fatica ma a livello di laboratorio più che operativa una metallurgia convenzionale come per esempio quella del K110 K2079 rispetto a una metallurgia come quella delle polveri a parità di durezza che potete vedere qui vi fornisce delle caratteristiche di resistenza a fatica enormemente più performanti questo proprio perché in virtù della più elevata uniformità della matrice i carburi non fungono da intaglio quindi la cricca che si viene a formare in caso di test come questi ha una genesi più lunga e quindi si sposta praticamente più avanti nel tempo o in un numero più alto di cicli stesso discorso a livello concettuale della questione del carico di snervamento a compressione facendo riferimento a quello che vi accennavo prima quando vedevamo lo spigolo che andava a deformarsi la scelta di materiali a più alta durezza o che possono sviluppare un carico di compressione più elevato va nella direzione di riuscire a fornire una più elevata caratteristica di resistenza allo spigolo e quindi di creare una genesi più lunga e quindi aumentare la vita dell'utensile perché praticamente la deformazione si sviluppa più lungo nel tempo o magari non si sviluppa e a quel punto la problematica potrebbe essere soltanto connessa a una questione di resistenza usura che invece a quel punto potrete andare a ovviare con durezze più elevate o con un discorso del coating altri aspetti sono invece connessi a quelle che sono le lavorazioni in questo caso per esempio lavorazioni meccaniche o lavorazioni di trasformazione come quelle dell'elettroerosione possono lasciare praticamente dei residui nella lavorazione adesso le nuove nuove sisteme dell'elettroerosione tentano già praticamente in automatico di minimizzare l'effetto praticamente della coltre bianca però è un aspetto da eventualmente tenere conto la coltre bianca fondamentalmente ha questo strato superficiale che si forma durante la lavorazione uno strato molto duro e fragile la rimorzione il suggerimento è sempre quello di verificare se si viene a formare e un'eventuale rimorzione meccanica attraverso una una sabbiatura piuttosto che una lucidatura dato che è la natura molto fragile il se dovesse verificare su questo fenomeno anche una possibile diciamo stress e living quindi una un detensionamento può aiutare a non avere l'insorgere di criche superficiali quindi è un lavoro di affinazione magari della 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 progettazione del punzone in questo caso per esempio potete vedere come un punzone con una problematic tagliato a elettrolosione il cliente in questo caso aveva lasciato la coltre bianca superficiale e dopo un tot di cicli si è formata questa cricca molto diciamo macroscopica che ovviamente ha portato al cedimento e alla chiusura della vita utile dell'utensile la rimorzione la rimorzione di questo di questo layer superficiale potrebbe avere potrebbe avere allungato potrebbe allungare notevolmente la vita di questo di questo componente e quindi il suggerimento che è stato dato al cliente è finita la lavorazione effetto una rimorzione in modo tale da avere e far lavorare direttamente il materiale senza avere la possibilità di avere delle cricche che si sviluppano praticamente in questa zona e si puliscono all'interno del materiale anche la rugosità vi parlavo prima dei processi quindi il il fattore di come andare a lavorare in un art milling piuttosto che fare delle lavorazioni successive porta dei vantaggi da un punto di vista del non lasciare dei residui della lavorazione a livello del materiale che possono essere banalmente delle zone diciamo infragilite superficiali o come in questo caso per esempio delle zone dove la cricca si è già formata ma è dovuta principalmente a una a una lavorazione meccanica un po' troppo spinta un po' troppo praticamente una sgorsatura un po' troppo forte a questo punto come potete vedere il discorso del danno su una lavorazione in art milling o su quella praticamente di diciamo più raffinata quindi in cui la superficie è meno diciamo meno rugosa se possiamo diciamo trasformare il ragionamento in questo senso vi dà una possibilità di non avere tutta questa serie di intagli superficiali e quindi delle minori problematiche a livello di generazione del tipo delle cricchie e quindi di cedimento del componente in questo caso per esempio sempre per fare un esempio connesso con quello che vi accenavo poco fa in questo caso c'è stata una lavorazione meccanica troppo spinta nel caso di questo componente e seppur con materiali estremamente tenaci la cricca si è sviluppata velocemente e ha portato al danneggiamento del componente in questo caso come vedete la deformazione la formazione diciamo di questa parte superficiale data dalla lavorazione meccanica ritornando un attimo alle possibilità di quelli che sono i materiali secondo me è interessante poter diciamo capire quello che è il punto di partenza magari avendo già un'esperienza su quello che è il componente che stiamo utilizzando o che in senso su cui abbiamo già un'esperienza per poter valutare in funzione di quelle che sono le caratteristiche o dei carichi con le simulazioni che si vanno a sviluppare una scelta dei possibili materiali da impiegare in questo caso trovate per esempio anche alcuni materiali della serie S che sono gli acciai rapidi per noi a livello diciamo di HSS perché in alcune situazioni seppur magari non vengono sfruttati da un punto di vista della loro resistenza a caldo ma possono dare delle caratteristiche a livello di durezze e a livello di resistenze anche nel settore della tracciatura a freddo o comunque della deformazione in questo caso sono stati categorizzati in funzione del processo produttivo quindi processo convenzionale OSR piuttosto che quello delle polveri e a seconda delle caratteristiche che uno va a scegliere resistenza usura piuttosto che resistenza tenacità come il K340 oppure in senso salendo con un materiale che è un po' adatto a ogni impiego come il K490 se vi sposto verso sinistra troverò materiali più resistenti a usura quindi dove l'usura abrasiva o adesiva è la tipologia di danneggiamento che tendo di andare a fronteggiare piuttosto da una parte dove invece cerco una problematica di danneggiamento per scheggiatura tra questi per esempio un acciaio di nuova concezione che stiamo portando sul mercato è il Boller K888 Matrix le caratteristiche principali di questo materiale sono proprio per andare a fornire prestazioni di elevata resistenza compressione e elevata tenacità proprio per evitare il chipping quindi la parte di formazione della scheggiatura questo materiale mi focalizzerò un attimo con due slide su questo più che altro proprio per magari darvi un'infarinatura generale di quelle che sono alcune caratteristiche peculiari è un materiale tutto sommato a basso contenuto di carburi seppur riesce a sviluppare comunque durezze elevatissime anche fino e oltre i 63 Rockwell insieme con questo aspetto riusciamo a generare anche un'elevata resistenza a compressione che sono nei casi per esempio dove il coating già viene impiegato fornisce già un'elevata caratteristica praticamente per sostenere il rivestimento questo aggiunto a un'elevata tenacità del materiale genera una combinazione di fattori che vanno proprio nell'ottica di ridurre il più possibile quelle che sono le cause che generano i fenomeni di scheggiatura per darvi un'indicazione a livello di gamma per quanto riguarda la tenacità materiali come il 2379 fino a quelli che sono il K838 e il V360 la tenacità va ovviamente aumentando dove praticamente si riduce anche la quantità di carburi cioè nel senso dove il K390 e il K890 ne hanno sicuramente di più ma materiali praticamente più convenzionali dove la microstruttura è più chiamiamola se possibile più standard forniscono caratteristiche inferiori a livello di tenacità rispetto a materiali più con delle trasformazioni particolari a livello diciamo di PM quindi di metallurgia delle polveri ma con dei valori direi che per un settore come quello della trancettura freddo e le durezze raggiungibili il K888 è proprio un materiale un unico non abbiamo riscontrato diciamo caratteristiche simili in altri materiali poter notare anche come la variazione della durezza tra 62 e 64 fornisce valori di resilienza al di sopra dei 100 joule quindi a livello generale quello che ci si può aspettare da questo materiale è che abbia data dalla minore percentuale di carburi presente all'interno della matrice rispetto magari a degli altri materiali sempre PM magari con invece un più altro percentuale di carburi una minore resistenza usura ma in caso in cui viene impiegato direttamente già il coating la resistenza compressione la tenacità portano ad avere delle prestazioni che da quelli che sono alcuni dei casi in cui abbiamo applicato il K888 ci portano ad aver avuto delle prestazioni addirittura superiori a degli altri materiali dove invece i carburi erano la parte fondamentale la caratteristica peculiare riassumendo questo è un materiale pensato per resistere a livello generale alla parte di usura ma soprattutto per quanto riguarda la tenacità la resistenza fatica sono le sue caratteristiche distintive soprattutto dove il rivestimento VDT è già utilizzato Volevo adesso presentarvi alcuni casi diciamo di applicazioni per esempio dei diversi materiali che abbiamo visto magari durante la presentazione in questo caso per esempio si parla di un di un punzione di tenuta il materiale precedentemente utilizzato era un X70 Chromoli De Novanadio 5.2 il problema che si sviluppava era la scheggiatura del punzione dopo circa 600.000 colpi il materiale era un easy 304 un materiale circa lamiere da un millimetro il componente veniva compresso e indurito durante la formatura il cliente ovviamente voleva un aumento del numero di stampate l'impiego del K-888 in questo caso ha una durezza superiore no scusa similare ha portato da solo a un aumento di 100.000 battute però secondo me l'aspetto interessante è la cricca che si è formata con il materiale precedente si è formata anche con il K-888 ma l'elevata tenacità ha permesso al cliente di continuare a utilizzare il punzone per altri 700.000 cicli senza diciamo avere problematiche di scheggiatura alla fine dopo il milione e 4 di colpi si è formata la cricca più piccola di quella del materiale precedente ma vuol dire avere permesso al cliente di continuare a produrre per quasi il doppio della produzione e dargli il tempo di realizzare nuovamente l'utensile se riesce a livello predittivo o diciamo di poter visualizzare il punzone e trovare quindi la presenza del danneggiamento applicazioni se il settore per esempio delle auto in questo caso parliamo praticamente di montanti quindi tutta la formatura e la tranciatura del montante in questo caso il materiale era un 22 manganese boro 5 un materiale diciamo comunque ad alta resistenza con un carico di rottura di oltre 1500 megapascal il problema in questo caso era il punzone andava in sovraccarico e ci formavano delle fratturazioni sui lati praticamente di taglio il materiale impiegato era un 2379 con circa 12000 colpi in 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 caso l'analisi del punzone ha permesso di comprendere la problematica e che quindi era una questione di tenacità che generava il cedimento del tool e quindi l'impiego per esempio anche di un materiale come il K340 dove le caratteristiche di tenacità sono la caratteristica peculiare di questo materiale hanno portato a una decubblicazione quasi del numero di stampate e fatte dall'utensile in un altro caso è sempre il settore automotivo ma è una parte diciamo dei track qui c'è stata uno più step a livello di studio il materiale iniziale era un 2379 la problematica anche in questo caso era usura e problematica di resistenza del tagliente lo step che è stato testato dal cliente era con un 2345 col coating ma il vantaggio che ha ottenuto è stato comunque seppur significativo ma non soddisfacente l'impiego di due materiali di due classi diverse il 3K340 è un SR il K390 è invece già un materiale della metallurgia delle polveri potete notare come nel numero assoluto di pezzi prodotti siano riusciti a ottenere una diversa e completa e secondo me eccezionale risultato rispetto a dei materiali convenzionali il ragionamento da fare molte volte è qual è il costo connesso direttamente all'utensile cioè magari sono materiali potenzialmente in assoluto con un costo magari più elevato ma percentualmente se permettono all'intero sistema di continuare a produrre senza dover avere fermi macchina il discorso di un cambio magari dell'utensile la problematica di doverlo approvvigionare di mantenere i fornitori questi sono tutti degli aspetti che ovviamente magari in un'analisi iniziale uno non considera ma magari riguarda più veramente una parte economica e invece da un certo punto di vista in un caso come questo un prodotto allo stato diciamo senza rivestimento ha dato dei vantaggi al cliente enormemente evidenti nel senso dal numero di stampate che sono riusciti a realizzare in questo caso invece è una funzione di formatura forma una specie di asola all'interno del componente di sinistra in questo caso è interessante vedere dove in un caso iniziale la problematica che il cliente riscontrava era di frattura cioè quindi il componente cedeva e la vita utile praticamente era di circa 2000 stampate 2000 colpi il cambio di materiale con un 2379 ha spostato la problematica da un problema di cedimento essendo il 2379 più tenace rispetto al che ho scusato il 2767 è più tenace rispetto al il 2379 ha spostato la problematica a livello di una resistenza usura il passaggio successivo che è stato tentato con il cliente è stato quello di sviluppare un funzione un componente in K3 890 e il delta in questo caso è stato praticamente un quadruplicamento dei colpi ottenuti come potete vedere anche questi materiali alla fine hanno delle problematiche comunque di usura ma è sempre una questione connessa con la vita utile del componente non esistono materiali immuni a questo è soltanto un tentare di trovare un buon bilanciamento per allungare e magari completare la campagna di produzione questo per esempio vorrei vedere come era visivamente l'usura tra un materiale e punzione che hanno sviluppato in primo step e invece quello successivo in questo caso invece è una tipologia di tranciatura fine un segmento di ingranaggio in questo caso praticamente il materiale era una problematica di cricche che si andavano a formare praticamente sull'utensile nella fase praticamente di realizzazione della zona praticamente dei denti dell'ingranaggio in questo caso il cambio con un materiale a più elevata tenacità ha permesso di avere un aumento di quasi quattro volte del numero di colpi prima dell'effettuazione praticamente dell'affilatura come vi accennavo la questione fondamentalmente è in un materiale come potenzialmente quello che stiamo vedendo come il K490 le caratteristiche in questo caso sono un ottimo bilanciamento tra resistenza usura e per esempio resistenza a livello di tenacità del materiale questo è per un bilanciamento a livello dei carburi e a livello della matrice io ho terminato se c'è qualsiasi domanda grazie mille a tutti dell'attenzione spero di avervi interessato grazie Luca io intanto Luca volevo seriamente ringraziare perché è stata un'ottima occasione non capita tutti i giorni di avere così tante anche come dire nell'ambito di webinar a titolo gratuito così tanto opportunità di scambio da un punto di vista tecnico io l'ho particolarmente apprezzato è stata è stata una cosa quando con con Marta abbiamo visto il numero di partecipanti e diciamo comunque l'interesse anche per noi è stato veramente vi ringrazio tutti perché è veramente stata una grande soddisfazione poter diciamo sapere che un argomento di questo tipo è di così grande interesse per tutti sicuramente fa molto piacere sto guardando intanto anche le varie chat vedo che tutti stanno dicendo molto interessante ottima spiegazione super e quindi sicuramente l'occasione è per come dire avere ulteriori opportunità per sviluppare ancora di più questa situazione quindi Marta non so se è ancora connessa sì sicuro assolutamente sì stavo vedendo Emanuele e un altro partecipante che hanno delle domande da fare comincerei con Emanuele prego Emanuele non la sentiamo se vuole può scrivere sulla chat intanto do la parola a Popovic spero di pronunciarlo in maniera corretta esatto buongiorno sono Popovic sono della cembre ho partecipato a questo seminario perché ho ricevuto un invito da parte di AQM è stato molto interessante anche dal punto di vista tecnico diciamo che ho visto delle cose molto interessanti e di un livello molto alto quindi vi ringrazio per per l'organizzazione e per il contenuto che mi sono veramente piaciuti volevo chiedere una cosa per quanto riguarda diciamo il numero delle stampate che voi che avete rappresentato con i vari utensili e le varie casistiche sono risultati diciamo di una sperimentazione empirica cioè avete realizzato i punzoni e poi avete diciamo fatto un certo numero di stampate o avete utilizzato dei modelli per diciamo prevedere i meccanismi di danneggiamento e poi simulare diciamo il danneggiamento del numero di stampate sono tutti casi reali cioè il meccanismo con cui realizziamo quelli che chiamiamo case study sono proprio dei casi in cui col cliente concordiamo la possibilità diciamo di testare magari un materiale o il cliente nel senso nella una chiacchierata magari con come questa che abbiamo fatto magari con tutti direttamente con il con il cliente vedendo l'applicazione specifica cercando magari quello che è il il materiale più che ha migliori caratteristiche a livello di prestazioni magari nel caso specifico proprio del del punzone o magari dell'applicazione il cliente lo lo implementa e poi praticamente insieme realizziamo questi case study in cui quelli sono i numeri reali che il che il cliente ha prodotto quindi il fattore non sono dei dati da simulazione diciamo per esempio ma sono il numero di stampate reali che il cliente ha effettuato con un punzone questo è secondo me io li metto sempre nelle presentazioni che facciamo proprio perché secondo me danno un'idea di quello che è a livello quasi tattile cioè mostriamo quello che si può veramente fare non solo quello che si può teoricamente diciamo produrre quindi secondo me sono molto interessanti proprio perché danno un modo anche per noi per farvi vedere fisicamente che cosa si può fare con questi materiali certo mentre lato simulazione avete diciamo esperienza avete fatto diciamo delle simulazioni voi o diciamo vi concentrate più sul lato pratico allora a livello di simulazione internamente in Böhler non abbiamo tipo una specie di R&D per la parte dei materiali a freddo nel senso che il R&D sviluppa la parte dei test per fare per esempio quelle analisi comparative dell'esigenza abrasione delle caratteristiche di tenacità e quindi dà dei parametri assoluti di comparazione la parte di simulazione tipicamente viene sviluppata o insieme con i clienti troviamo magari qualcuno che effettua questo tipo di perché per la parte di simulazione tipicamente l'unico dipartimento che c'è è la parte additive quindi i componenti realizzati con la metallurgia delle polveri ma per stampa 3D e in quel caso si può chiedere a loro la possibilità di eventualmente fare delle simulazioni fermo certo perché io mi sono un po' approcciato al mondo delle simulazioni e stavo simulando un processo di deformazione a freddo di componenti in rame e noi utilizziamo diciamo un vostro acciaio sui nostri componenti ero un po' diciamo in difficoltà a reperire le informazioni circa il materiale le proprietà del materiale o i vari modelli da utilizzare un attimo un attimo capire se voi avete esperienza in questo campo sono abbastanza sicuro che possiamo magari trovare un se organizziamo magari a valle dell'incontro un appuntamento anche soltanto una call vediamo sicuramente per tutta la parte dei dati riguardo ai materiali sono abbastanza certo di poter recuperare quello che le serve per la parte simulativa ho dei colleghi sicuramente in acceleria che magari possono dare degli spunti di confronto per magari trovare una quadra per il suo caso certo grazie mille la contatterò alla fine della riunione intanto lascio spazio agli altri partecipanti la ringrazio ancora per le domande adesso mi sentite molto basso si molto basso Emanuele buongiorno la mia domanda era molto simile a quella del collega che ha parlato adesso però da un punto di vista più alto io chiedo se avete della documentazione referibile circa una scelta diciamo di almeno per macro gruppi di materiali secondo quelli che avete presentato per gli utilizzi che si intendono fare magari propri o impropri perché io mi occupo diciamo di fare cose nuove e spesso ho necessità di adottare dei materiali tra virgolette ad uso improprio magari un materiale per fare risultato e mi interesserebbe appunto capire se c'è una documentazione di questo allora un un sistema magari di primo livello se possiamo chiamarlo così potrebbe essere quel decision tree che le ho mostrato durante la presentazione che è un sistema abbastanza come possiamo dire semplice ma dà delle indicazioni di come ci si va a muovere a livello di tenacità di esistenza usura una per esempio una cosa secondo me che potrebbe essere utile interessante è dentro nella brochure della della tranciatura che se poi lascia magari la mail e la mando anche direttamente via mail c'è nella parte finale in funzione di alcune applicazioni c'è alcuni spessori e alcune come possiamo dire complessità anche quello non è un caso specifico però dà un'indicazione quindi in funzione della complessità della durezza del tipo del componente e del tipologia per esempio di tranciatura che uno impiega dà già una gamma una seleziona alcuni materiali che possono dare delle prestazioni diciamo in termini di prestazioni basi prestazioni invece più evolute questo qui per esempio può essere un sistema magari per avere almeno a grandi linee una traccia poi in ogni caso ribadisco forse l'ho accennato ma meglio magari lo ridico noi siamo a disposizione quindi se qualsiasi cosa anche adesso l'uso improprio mi ha fatto paura devo essere sincero però scherzo però nel senso sentiamoci quando lei ha una problematica non si preoccupi contatti me piuttosto che contatta il commerciale di riferimento e lui riporta sicuramente la problematica troviamo un modo per supportarle per darle una mano ok perfetto grazie e di cosa si figure abbiamo MTS prego si mi sente si basso ma ormai sono sopra praticamente il computer vicino alle microfoni posso fare qualcosa no non si preoccupi la sento allora innanzitutto buongiorno complimenti per la vostra presentazione è stata molto utile anche perché relativamente appunto alla vostra presentazione abbiamo come azienda nella nostra produzione appunto problematiche inerenti proprio a matrici di taglio e anche punzoni vorrei posso condividere un'immagine con lei certo che è l'invio in chat tanto per evitare prendiamo per esempio questo oggetto come lei sa questa è un'anima no che viene aggredita sia perpendicolare al suo asse e anche a 90 gradi da 4 punzoni e quindi fa direttamente l'anima stessa da matrice inoltre c'è l'inserimento in un tubo prima ancora che chiaramente venga funzionato il tubo è di alluminio quindi cosa succede oltre al fatto che la scelta del materiale è quindi molto importante perché cosa succede al momento fanno veramente pochi cicli e dobbiamo rinforzare diciamo così il nostro magazzino di questo di questo di questa attrezzatura qua di questo utensile ok ma ne vorremmo aumentare magari cambiando materiale o magari con un coating la sua performance da questo punto di vista perché con quel tubo di alluminio lì come lei ha ben detto nella sua presentazione questo tubo lascia avanti indietro avanti indietro chiaramente si saldano l'allumina si salda praticamente con il materiale che va a finire poi con delle grippature delle rotture magari anche dei fili di taglio con una matrice stessa con un pezzo attualmente viene fatto in K110 però come ho visto è probabile che la sua risposta sia il K888 diciamo che secondo se posso permettermi è un è un caso che converrebbe dargli un'occhiata in maniera magari più in dettaglio cioè nel senso le suggerirei questo anche soltanto anche oggi c'è anche se nella chat o nel senso manda una mail gliela scrivo nel tempo in chat mi manda una mail io la richiamo e ne parliamo magari un attimino più in dettaglio e vediamo che cosa si può fare per per questo caso specifico si se lei ha tempo certo chiaramente si si no chiaramente c'è sempre tempo per migliorarsi no intendevo oggi nel senso io comunque guardi le scrivo nel non perché non le voglio dare una risposta però nel senso secondo me vediamolo un attimino più in in completo esatto perché fin quando si tratta della matrice separatamente quindi e poi il punzone e la matrice montata chiaramente su un suo pezzo la matrice stessa fa quel che deve fare e chiaramente il materiale è chiaro è limpido ognuno ha i suoi compiti e nessuno si dà fastidio quindi in questo caso questo oggetto ha più compiti a cui deve assolvere assolvere sì come per esempio le pressioni gli sforzi dei funzioni che arrivano quindi il taglio sia da una parte che dall'altra che avvengono oltretutto non simultaneamente ma in maniera a step quindi prima uno si ok è come avete creato un sistema praticamente di un concettuale passo passo ma fatto tutto in un unico blocco è chiaro che quindi questo oggetto è sottoposto prima da una parte poi dall'altra poi dalla parte opposta a chiaramente momenti flettenti quindi anche tagli eccetera eccetera che insomma da questo punto di vista mi piacerebbe capire quando mi trovo di fronte di fronte a queste cose che tipo di materiale e magari appuntare se nel caso un rivestimento particolare certo ribadisco che credo che riusciamo sicuramente a fare qualcosa per lei il caso è estremamente interessante le metto nella chat così mi scrive io la richiamo sì ottimo vi ringrazio la presentazione era chiara limpida chiaramente lei le cose le ha tutte in testa e tutte chiare per noi magari bisogna un attimino capire perché ci sono una valanga di materiali bisogna aver chiaro in testa che cosa va con chi e quale tipo di certamente la ringrazio intanto perché la ringrazio sicuramente io io tento di essere diciamo più chiara possibile perché se poi quando mi conoscerà meglio magari mi dice in senso sono come dire parlo tanto nel concetto di quello quindi però in senso l'idea è che anche su questi aspetti è sempre un c'è sempre qualcosa di nuovo un'applicazione diversa una problematica che magari non avevi mai visto questo comunque il settore delle cede utensili proprio per la varietà di possibilità quello che per esempio ha mostrato adesso come caso è abbastanza particolare non ne ho visti tanti di casi di questo tipo quindi secondo me c'è sempre in ogni caso il senso da poter avere un qualcosa di diverso e quindi da poter imparare qualcosa su questo sono sempre convinto grazie sì io purtroppo ho a che fare giornalmente con queste cose ma è un buon lavoro questo trovare una così vendere gli utensili è chiaramente ottimo ma però dire anche al cliente questo utensile ha una maggiore durata e chiaramente è meglio sicuramente è una valutazione migliore siamo qui per questo ok quindi la sua email la tengo gliela qua gliela scrivo in questo istante grazie mille saluto a tutti buona continuazione grazie allora intanto che Luca me l'ha già fatto scrive la sua mail qualcun altro ha altre necessità da un punto di vista tecnico Luca ha condiviso e anche il suo cellulare ricordo che l'ho appena scritto adesso nella chat per facilitarvi che nel frattempo la segreteria dell'HPDC School vi chiede gentilmente un vostro feedback rispetto all'andamento del webinar di oggi quindi vi ho rilasciato il link Marta del Pupo ha già scritto più volte che c'è la possibilità di richiedere direttamente altri il materiale che oggi è stato illustrato così come altri come dire materiali tecnico illustrativo rispetto ai prodotti Böhler e Fostalpin se non ci sono altre domande ma siamo qui naturalmente ringraziamo noi Luca te siamo a disposizione quindi sia chiaramente Böhler che Fostalpin che AQM che insieme a CSMT e la scuola di pressocrata ha voluto organizzare questo incontro ringrazio Fostalpin e Böhler per aver voluto supportare la scuola di pressocrata ne approfitto ancora una volta perché poi dopo nella nostra scuola evidentemente c'è anche la possibilità di condividere momenti di come dire tecnici come quelli che abbiamo avuto oggi quindi se non ci sono altri interventi io ringrazio tutti e buon estate ci aggiorniamo presto grazie nuovamente a tutti per la pazienza e l'attenzione buona giornata e buone ferie se si può dire grazie grazie buone vacanze arrivederci a tutti arrivederci 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 allora c'è da compilare che cosa a più che comprare una palanga di K8 bravissimo non è che sia ancora dentro grazie a tutti